In attesa dell'esito del ballottaggio di Matera, negli altri 5 comuni dove era prevista, l'adozione della doppia preferenza di genere sembra aver funzionato. In questa tornata elettorale, su un total di 68 eletti, approdano in Consiglio Comunale, Davigliano, Sant'Arcangelo, Irsina, Montalbano Ionico e Tursi, ben 31 donne. Il 45,6% dei nuovi amministratori, compresi quindi anche i primi cittadini eletti, è di sesso femminile. Non siamo ancora ad un'effettiva parità, ma sicuramente sono stati compiuti dei passi in avanti, in controtendenza con quanto avvenuto a Potenza l'anno scorso. Se però allarghiamo il campo, includendo anche i centri più piccoli, la percentuale si abbassa. Sono 60, infatti, le donne ad oggi elette in Basilicata nei vari consigli comunali. Esclusa Cancellala, dove le operazioni di spoglio non ci sono state, il dato in rosa si ferma al 30,77%. E ancora, limitandoci agli 11 comuni che non prevedevano la doppia preferenza di genere, sono soltanto 29 su 127 le donne elette. Tra i 5 comuni più popolati è andata benissimo a Davigliano, ben 8 donne in Consiglio, stesso numero degli uomini. Segue a ruota Sant'Arcangelo con 6 rappresentanti su 13, chiude una pagliata a quota 5 su 13, Irsina, Montalbano Ionico e Tursi. Resta quindi da sciogliere il nodo relativo a Matera, che intanto annovera annunziata antezza quale candidata più suffragata. Le consultazioni elettorali di quest'anno, dunque, lasciano ben sperare per il futuro, anche perché le previsioni alla vigilia non erano delle migliori. Appena due candidate sindaco ed entrambi occuperanno i banchi dell'opposizione. Nel Rosaria vicino di Corletto, né Angela Latorraca di Moliterno indosseranno infatti la fascia tricolore. Le note più negative provengono da Cerenza e Salandra con appena un eletto all'attivo su 11.